E ora le nazioni del mondo raccontate da Jacco Warner! Il francese e il barbato si guam! Norvegia, la Svezia, Islanda, Finlandia, Germania, Kenita, Orè... Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Italia, Turchia e la Grecia, poi c'è Polonia, Romania, la Scozia, Albania, l'Irlanda, la Russia, l'Oman, Bulgaria, l'Arabia Saudita e poi l'Ungheria, Cipro, Iraq e Iran, Siria, Liban e poi c'è Israele, Giordania, Goiemen, Kuwait e Bahrain, Tel Benelux, Portogallo, la Francia, Inghilterra, Danimarca e la Spagna, lo sai! India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Italandia, Nepal, Bhutan, La Cambogia, Imalesia, Bangladesh, Cina, Corea, il Giappone sta qua! Mongolia, Laos, Tibet, Indonesia, le Filipine, Taiwan, Sri Lanka, Guinea, Sumatra, La Nuova, Zelanda, Borneo, Vietnam, Tunisia, Marocco, Luganda, Angola, Zimbabwe, Djiboutia, Botswana, Mozambico, lo Zambia, Swazi, Langambia, Guinea, Algeria e poi Ghana! Burundi, Lesotho, Malawi, Togo, el Sahara, Spagnolo, n'c'è più! Niger, Nigeria, Chad, Liberia, Egitto, Venine, Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya, Melissia, Raleone, Algeria, Dahomina, Bibbia, Senegal, Libia, Cameroun, Congo, Zahir, Etiopia, Guinea, Abissau, Madagascar, Rwanda, More, Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Balcania, La Mauritania, la Transilvania, Monaco, Liches, la Palestina, Pidi, l'Australia, il Sudam! La Mauritania La Mauritania La Mauritania